Inizia con il piede giusto il campionato delle Toscane del volley femminile, vittoria sudata, quella della Savino del Vene Scandicci che solo al termine di un quarto set giocato punto a punto riesce ad avere ragione della Lardini Filottrano. Le marchigiane provano a sorprendere una Savino che ha nelle gambe ancora pochissimi allenamenti al completo, ma da una trasferta che poteva rivelarsi un trabocchetto le ragazze di Parisi tornano a casa con tre punti importantissimi in vista della super sfida di giovedì contro Novara. Più semplice ma solo fino a un certo punto il co-bisonte finto del bisonte Firenze che liquida per tre a zero la neopromossa reale mutua Chieri. Nel primo e nel secondo parziale le piemontesi mettono in difficoltà le parole di casa, ma nei finali di set, quando l'esperienza conta ancora di più, è sempre il bisonte ad averla meglio. Firenze brilla a muro in ricezione, un segnale molto positivo per una formazione al completo solo da pochi giorni.